Delle categorie maschili Under 16 e Under 18 e della categoria femminile Under 18. Vediamo di partire anche il pancetto di François. E dai, giocchiamolo su dai. Giocchiamolo su dai, giocchiamolo su dai. Dai ragazzi, dai. Travano tutto ragazzi. Dai, tu ancora. Alle, alle, alle. Ecco. Anche Stefano si riempisce. E dai partito gli ultimi secondi per fare l'ultimo tentativo. Tutti gli atleti stanno cercando di fare del loro meglio per cercare il podio di questa finale. Dai, facciamo il tentativo a tutti. Dai, facciamo il tentativo a tutti. Dai, alle. Tu, tutti. Wow. All'inizio bisogna tenere la presa di partenza proprio con due mani. Bisogna staccare i piedi e poi si può partire. Però sta la cura da Maxi. L'autrico fortissimo oggi, veramente in forma. Allora, è anche Stefano. È una bella decisa, capiva. Dai, non capire. Calma, davvero un andio. Dai, dai. Dai. Dai, dai, dai. E Maxi con primo dietro. Dai, Maxi. Eccolo lì, Maxi. Eccolo lì. Eccolo lì. Dai, vai, tre strazzi per il Maxi. Allora, e anche la faccia di chiusura. Grazie a tutti. E questi atleti hanno quattro minuti di tempo. E' un bel applauso. Anche lei ha fatto proprio una bella gara. E' un bel applauso, Max. E' un bel applauso. E' un bel applauso fortissimo oggi, veramente in forma. E anche qui se ne è una vera e decisa cattiva. Dai con cattivello. Non lo calma da dove mi stia? Dai! E anche Max si comprime in quel dietro. Dai Max! Eccolo lì! Ciao Max! Eccolo lì! E anche la francese qui sta andando bene. Eccola su! E' brava anche lei! Ciao Max! Alliana! I rimbrav siendo uži per la everything! Dai Zero! Alle Anne! Voi mongappara qui nel primo meteoro. Alliana! Eccolo lì! Andrada! Eccolo lì! Stanno lottando per andare su? Dai, 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 dai! Grazie per la visione!